Buongiorno, oggi è il 7 novembre 2024 e vado a leggere un post, un articolo di cinque anni fa, del 22 novembre 2019. Potremmo intitolarlo Lezione di politichese. Può essere comodo a tutti noi imparare un pochino di politichese. Inizio a leggere. Il 9 novembre 2019, nel giorno del trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tedesco Heiko Maas, ha dichiarato. Attenzione perché bisogna impararle queste parole, sono meravigliose, state attenti insomma. Due punti. Nessuno Stato membro sarà mai soddisfatto pienamente di come è lui adesso. Tutti vorranno sempre migliorarla. Vogliamo un'Unione europea più forte. In questo momento in Italia non c'è una sola forza politica in Parlamento che chiede di uscire dall'euro e dall'Unione europea. Fino a qualche anno fa poteva essere un'idea strana. La comunità politica italiana conviene sul fatto che le istituzioni europee devono essere rafforzate. Pensate, è passato esattamente da una parte all'altra. Prima voleva fare il referendum per uscire dall'Unione europea. Appena ha messo il piedino nella stanza dei bottoni, vuole rafforzare le istituzioni europee. Continuo a leggere un altro pezzettino della meravigliosa dichiarazione dell'On. Di Maio. A livello globale ci sono delle sfide che i singoli europei non possono affrontare da soli. L'auspicio è che l'Unione europea possa essere ancora più forte in futuro per affrontare sfide economiche, commerciali e politiche. Punto. Inizio a parlare io adesso. Che bel politichese, che belle e nobili parole. In sintesi, però, traducendo, siamo passati dal voler ridiscutere l'euro, anzi, siamo passati dal dire di voler ridiscutere l'euro attraverso, attenzione, un referendum popolare, al voler migliorare, anzi al dire di voler migliorare l'Unione europea aumentandone l'integrazione fra gli stati. tradotto in linguaggio ancora più esplicito significa accettarla l'Unione europea così com'è, con l'euro, con la moneta euro e i vincoli che si porta dietro, facendo magari un po' di ammuina per far vedere che qualche cosa si sta cercando di migliorare. Ma senza alcuna volontà di andare allo scontro, per carità non sia mai, perché i padroni del discorso, le plutocrazie globaliste che comandano, l'Unione europea l'hanno costruita così e così ad arrestare anche perché il Movimento 5 Stelle cala sempre le braghe. È una realtà, quella dell'impossibilità di cambiare l'Unione europea, che conoscono bene tutti, non solo i nuovi ma anche i vecchi cantori dell'europeismo, che ora con la prossima riforma del MES cominciano però anch'essi a contrarre lo sfintere anale e a emettere qualche flabile lamento. Però un vincolo forte impedisce a qualunque forza politica italiana di svelare la verità sull'assoluta sudditanza del nostro Paese e di agire di conseguenza. Non solo le forze di governo, ma anche quelle di opposizione, tranne formazioni veramente minori, hanno ormai rinunciato a inserire nel loro programma breve o a lungo termine la volontà di uscire dalla gabbia eurocratica, come si desume dalla dichiarazione del plenipotenziario Di Maio che abbiamo letto sopra. Ma c'è di più oltre alla rendevolezza. Luigi Gino la vuole ancora più forte l'Unione europea del futuro e questa frase francamente mette i brividi a chi sa leggere tra le righe «Perché sapete quali pietanze stanno mettendo al forno nel cucinone di Bruxelles?», scrivevo nel 2019. «In cottura ci sono la riforma del MES, la riforma del sistema di gestione dei bilanci degli stati, la nuova riforma del sistema bancario europeo, l'esercito europeo e altre cosucce che gli zeloti della Commissione stanno studiando giorno e notte a nostra insaputa, naturalmente per il bene dell'Italia e dei suoi cittadini, questo sia ben chiaro». Grazie onorevole Di Maio. Alla prossima.